Zafina poisoning L'halla Do General �� Ancora un asso nella manica. Vuoi farmi guadagnare tempo? Puig'è compter su toi? Osservalo! Ora, inizierò il rituale per esorcizzare il demone. Rilascio del sigillo! Tchè... Dicenze, ma godere! Stop! Ok! N... Mettere le prezze! Fai l' hero! Otra! Ima so se còu kouki! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti